Era intento ad allenarsi nel campo da calcio a Centinarola di Fano quando spunta un carabiniere che stava inseguendo una persona. Lui, che in quel momento era con gli altri compagni di squadra, non ci pensa due volte e quando si trova di fronte il fuggitivo lo blocca parandosi davanti. L'arrestato è un giovane albanese, trentenne, volto noto ai carabinieri di Fano, poiché è responsabile di furti in abitazione e spaccio di cocaina nella provincia pesarese. Ieri pomeriggio una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo di Fano lo ha notato davanti a un bar nel quartiere di Centinarola, assieme alla compagna, una sinti italiana domiciliata in un campo nomadi nell'Interland di Milano, anche lei conosciuta per uguali trascorsi. Alla vista dei carabinieri i due si sono allontanati velocemente dal locale e sono saliti su una Fiat Punto partendo in modo spedito nel tentativo di dileguarsi. I militari hanno provato a fermare l'auto che però si è allontanata a forte velocità bruciando semafori e stop fino a imboccare la Flaminia contro mano, obbligando quindi i militari ad ingaggiare un pericoloso inseguimento. I due fuggitivi poco dopo però hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi separandosi. L'albanese si è dapprima nascosto in un anfratto, poi ha tentato la fuga verso il campo di calcio di Centinarola, inseguito da un carabiniere che, visto un gruppetto di giovani atleti a allenarsi, ha chiesto il loro aiuto ed è qui che il sangue freddo di un ragazzo e il suo senso civico ha giocato la parte determinante di questa storia e così il calciatore ha raccolto la richiesta d'aiuto del militare e si è parato con decisione di fronte al fuggitivo che ormai in trappola si è fermato. Portato subito in caserma, l'albanese però ha esibito un passaporto e altri documenti rilasciati dalle autorità albanesi su cui erano riportate generalità completamente diverse da quelle conosciute ai carabinieri. La conferma però della sua vera identità è arrivata dai riscontri delle sue impronte digitali. Il giovane delinquente aveva cercato di sottrarsi al controllo proprio perché sapeva di essere stato riconosciuto dagli stessi militari che lo avevano indagato in quanto responsabile di numerosi furti in abitazione, i quali però ben sapevano dell'esistenza di un mandato d'arresto pendente su di lui. Inoltre era stato espulso dal giudice nel suo paese d'origine. Dopo le formalità di rideo il trentenne è stato portato nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro per scontare la pena residua. Per lui inoltre è scattato un secondo arresto per essere rientrato in Italia in violazione dell'espulsione giudiziaria cominata dal giudice per motivi di sicurezza.